questo qui si è appena tolto è tutto normale sono arrivato per fare il controllo dell'impianto gas l'ho oggi in dobre ecco qui la griglietta pronta eccoci qua per fare il controllo officina computer impianto gas ovviamente il sedile non andava più né avanti né indietro comunque adesso funziona questo adesso lo rimetto gli è piaciuta la macchina erano impressionati ecco qua il breakfast guarda che bello sausage è giusto sono le 9 eccoci qua a controllare il gas mentre io gli parlavo in inglese il tipo mi ha risposto sì e gli ho chiesto ma allora parla italiano e infatti parla italiano qui in un posto sperduto a Shevitz parla italiano allora adesso io ho fatto 6.000 chilometri però mi si consiglia ogni 10.000 di cambiare il filtro e quindi lì il filtro adesso è stato cambiato altrimenti si rompe l'iniettore va bene vuoi dire qualche cosa no ho trovato la sorella la sorella polacca in questa mattinata di fresco sole autunnale a parlare della nostra mitica waz 452 spettacolo comprarla o non comprarla questo è il problema senza dubbio una delle auto più particolari insieme al Defender che è anche quella in quanto ha problemi non scherza non ha airbag le marce entrano e non entrano il prezzo considerando l'offerta sia del materiale che anche della comodità è abbastanza esagerato il gomito rimane praticamente proprio attaccato il volante esageratamente grande è vero che ti puoi appoggiare quando sei stanco ti ci appoggi le alette queste qua sono proprio cioè guarda non si vede più nulla ti devi proprio abbassare perché altrimenti questa è la visuale cioè ti trovi questo il calore del motore ovviamente avendolo direttamente qua è chiaro che si sente ma soprattutto solo nei periodi caldi perché quando fa freddo è anche abbastanza comodo le viti ogni tanto se ne trova qualcuna per terra non tanto queste ma quanto quella delle porte ogni tanto qualcuna cede qualcuna la trovi un po' smollata bisogna riattaccarla oggi non fa rumore un pochino vediamo se spengo il motore si spengono anche loro problemi generali tra acceleratore che rimane bloccato cioè si schiaccia e vedi come rientra lentamente no? e a volte rimane proprio abbassato i gommini questi qua che ogni tanto te li trovi per terra soprattutto questo qua della frizione l'acqua della pedalina quando piove apri e abbiamo la fontanella mancanza dell'airbag questa l'abbiamo già nominata clacson a volte funziona a volte non funziona i tergicristalli a volte fanno rumore a volte no oggi no è una macchina surprise cioè questo qui è tutto lo spazio nel quale il volante ha il gioco per il quale appunto le ruote non si muovono le ridotte non sono dalla tua parte come la marcia ma sono dalla parte del passeggero quindi se devi mettere le ridotte ti devi un po' come dire allungare per inserirle la velocità massima è quella degli 80 km orari poiché se vai più veloce numero uno se superi i 100 km all'ora il divisore che vedi qua dietro inizia a ondulare e questo è superato i 100 km quindi la velocità massima conviene che si rimanga intorno agli 80-90 km meglio gli 80 km perché dopo gli 80 km inizia a consumare abbastanza le porte bisogna chiuderle chiuderle per quanto riguarda la velocità ho attaccato il mio bel adesivo della velocità 100 km orari anche perché dargli un 80 km mi sembrava no? meglio dargli un 100 km no? cioè ai 100 km non ci vado però è più bello il 100 km che non mettere 80 km magari poi nell'altra finestra gli metterò gli 80 km anche perché se vai in autostrada con i camion che ti si attaccano dietro è meglio metterlo così almeno sanno che questa è la velocità e non rompono i coglioni insomma ho attaccato le margheritine praticamente se vai se superi i 100 km orari finisci con usare il tuo tank di benzina oppure di gas in no time rumorosa è non esageratamente confortevole le porte come ho detto sono a slam la ruggine è incalzante tra l'altro ne ho trovata una l'altro giorno del 2016 era abbastanza messa male molto messa male e aveva praticamente gli attacchi di ruggine negli stessi punti negli stessi identici punti incredibile questo pezzo qua che per ora è piccolino il suo ce l'aveva almeno il triplo insomma la ruggine è incalzante la frizione è abbastanza pesante e le grattugiate sono sistematiche non puoi scappare sì sì è un'icona è un'icona della russia una sua linea bella e ondulata qua il cassettino c'è un'altra piccola presa d'aria che abbassandola tec capito? adesso vabbè in ogni caso ecco lì c'è un'altra presa d'aria conviene dargli sempre una pulitina perché si forma parecchia acqua sotto il tappetino o parecchia terra sotto il tappetino e la terra si frega e ti rilascia il buco gli sleeping policemen o i buchi normalmente delle strade sono abbastanza un buco un salto gli sleeping policemen quindi sono abbastanza duri le pastiglie si surriscaldano molto facilmente questo dopo aver passato la Puglia experience dove andando per ulivi c'erano delle discese impressionanti e le pastiglie si surriscaldano molto facilmente le porte ovviamente sono pesanti e non sempre si chiudono è un'icona è un'icona della Russia ha una linea ondulata e credo che il motivo per la quale o per il quale mi piace quest'auto è il fatto che ritorni bambino parli così come un bambino tutte le pozzanghere sono le tue il fango vuoi dirgli di no non c'è pezzo che puoi dire no non ci vado non si può andare cool è la parola esatta addirittura addirittura i bambini che non la conoscono ma quando la vedono rimangono si vogliono fare la foto insieme pratica semplice forse troppo semplice molto semplice gli ho fatto un piccolo cambio gli ho tolto i sedili ma che me ne faccio erano due tre quattro cinque sedili no adesso là gli metterò due puff e qui ho messo la zona soggiorno adesso questi qua funzionano no sia uno che l'altro questo è il divisore che ancora devo sistemare siccome è considerata come autocarro scatola che gli ho fatto no in quanto copertura dell'impianto gas l'attacco per il gas rimane qua qui c'è l'attacco non sarebbe male mettere il portapacchi però mettendoci il portapacchi mi rovina un po' l'estetica dell'auto non so ci devo ancora pensare tra tutti i problemi che ha ecco perché mi piace perché è una macchina semplice 6.000 km in 9 giorni non ha avuto nessun problema se non che appunto il riscaldamento dell'abitacolo però basta aprire i finestrini posteriori per far circolare l'aria una cosa interessante che ho messo è lo specchietto retrovisore ops è lo specchietto retrovisore che veramente aiuta molto capito? hop gambetta che si alza no? lo specchietto retrovisore filma sia frontale che di dietro metterò poi il link dell'articolo ho messo la rete per tenere tutti gli oggetti che ancora devo sistemare questi sono i fili che passano attraverso no? il filo questo è il filo della retromarcia è il filo della telecamera entra con il filo della retromarcia entra qui nella scatoletta esce da questa parte si attacca qui qui c'è la telecamera è lì la retromarcia e così il tutto funziona all'unisono in una meccanica perfetta 4 metri e 6 di lunghezza 2 metri poco più di 2 metri di altezza 2 metri e 6 insomma nel parcheggio del supermercato sotto non conviene andare una lacrimuccia diciamo che è una macchina che viene costruita al buio nelle fabbriche in Russia io penso che venga assemblata al buio perché o lo faranno con poca luce a disposizione cioè hanno fatto questo qui ma fammi anche le cinture come si chiamano le chiesure centralizzate non è che io ogni volta devo fare il giro per chiudere tutto quanto hai fatto i modelli nuovi ma fammi hai fatto questa qui nel 2019 ma fammi anche le chiesure centralizzate questi sono i bottoni che ogni tanto saltano insieme ogni tanto a qualche vite che mi trovo in giro da qualche parte è una macchina che ti deve piacere probabilmente noi italiani non dico noi europei ma noi italiani siamo un po' più come dire sofisticati ci piace avere magari una cosa che tu la compri e ti funziona non che ogni tanto gli devi mettere le mani le mani sopra in ogni caso quando ho incontrato il tipo che ha visto la macchina lui ce l'ha dal 2016 e in effetti tutta quest'area qua è messa tutta questa zona qua è messa disastrata ma proprio disastrata questa qui invece si tiene benissimo per ora al contrario appunto vedendola ha visto dopo un anno già le grandi pecche che ci sono o piccole pecche che comunque non tarderanno a diventare più grandi nella considerazione appunto che è solo un anno che la macchina gira così si dice ci sono altri modelli e il suo era uno di questi dove tutto qui intorno è stato ricoperto da una da un rivestimento di gomma secondo me si può togliere in ogni caso però non ha non ha senso metterglielo perché proprio perché come si dice non ti fa scolare tutta l'acqua qui praticamente c'è tutta la copertura no e qui l'acqua rimane tutta stagnante si cade anche perché la copertura arriva più o meno fino qua no il rivestimento di gomma arriva fino lì dopo di che va a scemare ma l'acqua deve trovarsi il suo sgorgo tra l'altro hanno anche dei rivestimenti di gomma che che comunque uno se li può anche comprare no if you wanna buy you buy ma non è non è necessario hanno anche dei rivestimenti anche questa qua del 2016 aveva il rivestimento qua e in effetti avendo gli anelli no aprendo tante volte c'è righi un pochettino senza contare che puoi anche rompere la pietra dell'anello eh bello due margaretine per dargli l'idea woodstock qui si può vedere tutta la linea no tutta la linea che si sta ingiallendo piano piano nuovi segni dell'auto per questo che dico noi italiani siamo abituati a comprare una macchina la quale non gli succedono appunto queste cose siamo un po' più sofisticati non siamo così come dire rudi no in un certo senso e allora ci piace che la macchina abbia una sua tenuta almeno per un tot di tempo capito al contrario capisci capisci you know what I mean capisci cosa voglio dire ci piace che la macchina abbia una sua tenuta almeno per quei 3-4 anni e dopo che abbia anche il suo inizio di deterioramento ma non che dopo un anno abbia già il suo deterioramento siamo siamo oramai arrivati ai 28 27 mila e 800 chilometri 30 mila chilometri l'auto dovrebbe essere a 9 posti però considerata autocarro viene appunto venduta a 7 posti con questa divisione per cani normalmente l'autocarro ha 2 posti massimo o 3 posti davanti dopodiché c'è la divisione e 3 quarti dell'auto sono adibiti a carro in questo caso invece solamente un questa fetta no un quarto viene adibito a carro questo il portaoggetti qua ho anche la canna da pesca sai mai che se vado a pescare almeno ho la canna da pesca capisci l'importanza no e questo è quanto in questa area no che ho preparato gli metto questa cassa che ho qua quella lì blu che gli cade giusta perfetta non è che mi piaccia tanto infatti la dovrò cambiare però per ora la lascio lì ma presto la cambierò di mettere crearlo modello camper cioè nel senso di mettergli una cucina dentro non è tanto nei miei pensieri anche se comunque questa tutta questa zona si può ricoprire con una base di legno insomma creare anche una base per un'eventuale cucina ma io di cucinare qui dentro non è che abbia tanta voglia preferisco uscire no e mi faccio il fuoco insomma mi faccio il fuoco se mi devo fare una griglia se voglio un caffè vado al bar capito no non è che mi devo fare il caffè qua dentro nell'abitacolo dove magari uno vuole anche dormire cosa mi faccio gli spaghetti aglio olio e peperoncino mi metto il gas qua dentro mi faccio gli spaghetti mi faccio lo stufato che mi faccio no se devo andare a mangiare vado al ristorante torno e se voglio andare a dormire qua vado a dormire qua altrimenti vado in albergo capito questo però è uno spazio che se tu viaggi e dopo vuoi addormentarti lontano dal volante ti puoi venire e sdraiare qua senza fumare no smoking perché lo spazio è ridotto quindi più roba gli metti e meno hai dopo spazio se vuoi dormire o gli fai l'omologazione per camper e a questo punto devi togliere la bombola del gas e metterla eventualmente sopra al tetto con un portapacchi oppure lo lasci così una zona per mettere borse e valigie e l'altra per riposarti anche per mantenere in un certo senso l'idea originale della macchinina l'idea originale l'idea originale l'idea originale Grazie a tutti.